E ora che siamo illuminati dalla parola che è stata proclamata, nell'abbraccio benedicente della Trinità, Padre, Figlio e Spirito, e nell'atteggiamento dei Magnificati di Maria, possiamo cominciare i nostri lavori. Abbiamo la garanzia perché i nostri lavori siano fruttuosi. Grazie di essere qui, grazie di essere così numerosi, grazie soprattutto perché portate a questa Assemblea, spero, spero proprio tutti, un cuore ardente. Mi è capitato in questi giorni di parlare più di una volta di ciò che vedevo in questo anno pastorale che sta per iniziare e l'ho detto semplicemente così, sarà un anno di fuoco. Sarà un anno di fuoco. Vedete? Forza, coraggio. Abbiamo portato lì alla parola le nostre lampade, ma possiamo anche rovesciare l'immagine. In realtà è dalla parola che noi veniamo infiammati, è luce e fuoco che arriva da Gesù risorto, il vivente che ci parla e ha da costruire cose belle per la nostra Chiesa, per la Chiesa universale e per il mondo. Voglio subito dare questa indicazione di bellezza perché, abituati a lamentarci come siamo e la crisi di tutti i tipi, rischiamo qualche volta di perdere invece ciò che è proprio il nostro specifico, noi siamo il popolo della bella notizia e allora per quanto intorno possiamo avere e anche qualche volta dentro di noi, perché siamo uomini di questo tempo, tanti motivi per lamentarci e per vedere scuro, ma sappiamo da Gesù e abbiamo da Gesù la luce che ci illumina e ci infiamma perché è fuoco, è fuoco dello spirito e allora, coraggio miei cari, c'è da fare molto e il Signore ci darà di farlo e che questo debba avvenire io lo vedo in tanti particolari provvidenziali perché li ho letti così, intanto siamo nel terzo anno della parola, dunque siamo nel cuore del Vangelo. Vogliamo fare una prova, io sto ancora in visita pastorale, quante volte vi ho fatto fare questo gesto, vediamo quanto sono stato efficace, volete alzare le vostre Bibbie? Coraggio, coraggio, vediamo, vediamo, vediamo che percentuale, Ivano riprendi tutto, dopo contiamo, contiamo perché questo è un libro prezioso, dobbiamo maneggiarlo, ieri sera ancora nell'ultima tenda che ho fatto, lì hanno c'era a case basse, ancora com'è bello vedere questi anziani che non l'avevano mai fatto con la loro Bibbia in mano a fare l'alexio sul capitolo quinto di Giovanni, a leggere insieme quel versetto, ma sentite, se cominciamo a far così, questa è parola che è una bomba, è una parola che sprigiona un'energia, io ogni sera torno a casa distrutto e ogni mattina mi sento vivo, prendo questa parola e riparto e dico, ah, potessimo fare veramente tutti così e spero che lo facciate in tanti, questa è verità, è la verità che salva e allora, miei cari, siamo nel terzo anno della parola dunque del cuore, è Gesù, il verbo si è fatto carne, stasera Don Doglio ce ne parlerà e poi guarda provvidenza, ma che cosa grande, sembrerebbe a prima vista una gran confusione, qualche sacerdote, ha detto ma quest'anno come faremo e hanno gli evangeli e hanno la parola e il sinodo e la cosa, ho detto ma guarda che è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa, è sempre Gesù, è Gesù, è Gesù, è Gesù, è sempre lui, è sempre e solo lui con il Padre e lo Spirito, è guardato da diversi angoli, nell'anno dei Vangeli noi lo guarderemo attraverso, abbiamo sentito i racconti del Vangelo e con l'anno della fede ci metteremo in atteggiamento di fede, con quella fede che è anche una fede attenta al nostro tempo come ce l'ha presentato il concilio ecumenico Vaticano II, come ci è stata data dal catechismo della Chiesa Cattolica, certo non ci rimetteremo a leggere tutti questi documenti contemporaneamente ma ci apriremo a questo interesse, poi il tempo per approfondire c'è ma intanto noi ci apriamo a tutto questo e poi cominciamo il nostro cammino sinodale, non faremo altre cose, faremo Vangelo e Vangelo e Vangelo e Vangelo ma con un'apertura spirituale, una preghiera che ci preparerà e poi tutto questo lo faremo come? Lo faremo come famiglia perché avete sentito, appena aprite il Vangelo subito, avete questa sensazione forte, la parola si è fatta carne facendo famiglia, avete sentito Gesù? Comincia subito, attira i primi discepoli, come li chiami, come vai, tu li chiami così e tu li chiami in quell'altra maniera e subito crea famiglia e immette nella nostra storia la vita della Trinità e immette noi nel suo ambiente divino, questo è Gesù, è la parola che ci fa famiglia, il Vangelo ci fa famiglia, questo sarà il titolo applicativo di questo terzo anno della parola, l'anno scorso la parola ci fa popolo, adesso come declinazione ancora più viva e calda il Vangelo ci fa famiglia, tutte queste cose in questi due giorni metteremo a fuoco, in realtà le abbiamo già elaborate, non è che partiamo questa sera, è stato tutto un anno, incontri, i vari consigli, la preassemblea, oggi partiamo alla grande e domenica con l'aiuto di Dio vi consegnerò, non a nome mio, a nome del Signore il piano pastorale, quello che deve essere per tutta la nostra Chiesa, parrocchie, movimenti, santuari, persone di vita consacrata, per tutta la nostra Chiesa deve essere il cammino prevalente, comune, una Chiesa si riconosce da questo, poi dentro questo cammino ci sono i tanti sentieri che sono opera dello spirito, ma tutti devono convergere, questo è il cammino comune, in questi due giorni noi mettiamo a fuoco il cammino comune, giorni importanti, giorni di grazia, giorni di fuoco, ci mettiamo subito adesso il cammino di lavoro perché abbiamo tante cose da dire e da fare e io invito subito i relatori, il moderatore della serata, Monsignor Peri, in questo momento ha avuto un piccolo problemino, niente di eccezionale, il vicario generale come sapete ha avuto una brutta operazione ma adesso si sta riprendendo bene, solo che questi due giorni ha dovuto fare delle verifiche e ha bisogno di un po' di riposo, Monsignor Peri, uno dei vicari, modererà, ringrazio fin d'ora padre Giovanni e gli altri con lui che si sono impegnati a organizzare il tutto, ecco che vengano qui insieme con il relatore e cominciamo subito i nostri lavori, ecco, allora non per me ma per loro, ecco un applauso che ci riscalvi. I lavori dunque proseguono con l'ascolto di questa relazione che ha come tema il cammino con Gesù nel Vangelo di Giovanni, relazione che sarà presentata da Don Claudio Doglio, che abbiamo qui davanti, sacerdote ligure di Savona, che è uno specialista in Sacra Scrittura, è ordinario di Sacra Scrittura presso una delle facoltà teologiche italiane, quella di Milano, insegna sia nella sezione di Genova che anche nella sede centrale di Milano. Si è specializzato sia all'Istituto Biblico come anche alla Gregoriana, è un po' quello che ha fatto il nostro Don Oscar, che ha anche approntato il sussidio che voi potete prendere. Tiene oltre al corso di lingua ebraica e di grego biblico anche dei corsi specializzati sull'opera di San Giovanni, quindi siamo proprio nel Vangelo di Giovanni che è particolarmente messo di fronte alla nostra attenzione. Il professore Doglio, oltre a far tutto questo, è anche dal poco, dall'anno scorso, parroco nella parrocchia di Sant'Ambrogio a Varazze, dove è anche moderatore della unità pastorale. Ci sono dunque tanti motivi per ascoltarlo con molta attenzione. Saluto con gioia la vostra Assemblea diocesana, Monsignor Vescovo e tutti voi. È un'esperienza per me di chiesa incontrare una comunità che ha progettato di camminare sulle orme di Gesù, impegnandosi sempre meglio ad ascoltare la parola di Dio e ad approfondire lo studio dei Vangeli. Volevo partire proprio dalla lettera pastorale che il vostro Vescovo, Monsignor Domenico Sorrentino, ha preparato per questo quadriennio della parola di Dio. Ma è già stato fatto nelle letture che hanno introdotto questo momento. E quindi partiamo direttamente dall'Evangelista Giovanni. Noi abbiamo tra le mani un tesoro e questo tesoro è il frutto di un lungo lavoro di meditazione, di riflessione, di approfondimento, di studio, di preghiera. Opera di un uomo non isolato ma inserito in una comunità. Un uomo di chiesa che ha vissuto circa 70 anni dopo l'esperienza con Gesù. E quindi il Vangelo di Giovanni è un testo che è stato composto nell'arco di 70 anni. Non è un'opera buttata giù all'improvviso, non è una serie di appunti improvvisati, ma è il risultato di una vita. L'Evangelista è proprio testimone oculare, giovane nei momenti storici determinanti della vita di Gesù. Egli ha passato il resto della sua vita a ripensare quella esperienza fondamentale. Sono stati alcuni anni, circa tre, che hanno segnato la sua giovinezza. Quella persona lo ha decisamente colpito, lo ha affascinato, ha dedicato la sua vita a lui e ha ripensato continuamente quella esperienza. E col tempo l'ha capita sempre di più, sempre meglio. A forza di parlarne ad altri, Giovanni comprendeva a egli stesso meglio quello che aveva vissuto. E quando doveva riparlarne, si accorgeva di essere cresciuto nella conoscenza. E aiutato da tanti collaboratori in momenti diversi della vita, ha messo per iscritto questo capolavoro che la Chiesa ci ha conservato e trasmesso e che continuamente ci propone. I Vangeli sono, come è già stato detto, una quadruplice o quadriforme testimonianza dell'unico evento che ha al centro la persona di Gesù Cristo. La Chiesa antica ha fatto questa saggia scelta di non fondere vari testi in un unico racconto, ma ha scelto di conservare i quattro racconti che erano conosciuti da tutti, da sempre, dovunque e accettati come testimonianze apostoliche. Non esclusero altri, scelsero quelli che effettivamente erano nati dalla vita della Chiesa come autentica testimonianza apostolica. E conservarono la distinzione fra i testi, ritenendo che fosse un pregio e una ricchezza la presenza di differenze fra un testo e l'altro. Per cui il Vangelo di Gesù Cristo, che è l'unico, ci è trasmesso secondo Matteo, secondo Marco, secondo Luca e secondo Giovanni. Forse anche in questa piccola espressione dovremmo imparare a essere più precisi. Ci scappa facilmente di dire il Vangelo di Giovanni. In realtà la Chiesa ci ha sempre insegnato a chiamare il Vangelo secondo Giovanni. Il Vangelo è di Gesù. Giovanni è un mediatore. secondo lui il messaggio è questo. Ed è necessario che ci sia questa mediazione umana perché la parola si è fatta carne. L'incontro autentico di Gesù con questi uomini, con questa persona di Giovanni è diventata carne. E quell'uomo concreto ha testimoniato la propria esperienza. E la sua storia di uomo, di credente, è diventata libro. Nell'ultimo capitolo, quando Pietro, dopo avere dialogato con Gesù, si volta e lo vede, gli dice, è lui? Che sarà di lui? Gesù gli risponde, se voglio che rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si era diffusa l'idea che quel discepolo non sarebbe morto. E chi scrive queste ultime righe del libro lo fa quando il discepolo è morto. E deve giustificare questo fraintendimento. Non aveva detto Gesù che non sarebbe morto, ma che sarebbe rimasto fino alla venuta gloriosa del Cristo. Giovanni rimane, il libro di Giovanni resta, attraverso il testo, noi abbiamo la possibilità di parlare con un testimone oculare, con una persona innamorata di Cristo, che ha passato la vita a pensare e ad annunciare quella esperienza. Dunque c'è stato un cammino di comprensione. Il nostro cammino con Gesù diventa anzitutto un cammino con Giovanni, con il discepolo che Gesù amava, per imparare a capire Gesù come lo ha compreso il discepolo amato. È proprio Giovanni che in due passi del suo racconto mette in evidenza questa dinamica di maturazione. Il primo testo lo troviamo al capitolo 2 nell'episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio, quando l'Evangelista annota ai versetti 19-22 che i discepoli non capirono che cosa voleva dire Gesù, distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Egli parlava del Tempio del suo corpo. Qui è la voce del narratore che entra nel racconto, una specie di parentesi, una intrusione. L'autore dice il senso di quello che intendeva il personaggio principale Gesù e spiega ai suoi ascoltatori, ai primi e a noi che viviamo duemila anni dopo, che lì per lì non capirono che cosa volesse dire. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola di Gesù. Dopo la Pasqua, l'esperienza dell'incontro con il Risorto e il dono dello Spirito Santo rende i discepoli capaci di capire quello che avevano vissuto. Prima vivono delle esperienze straordinarie, le vedono, le sentono, le memorizzano, proprio perché sono fatti importanti, segna la vita dei discepoli, ma non li capiscono appieno. Dopo la risurrezione, quindi dopo la Pasqua, quando l'uomo Gesù non è più fisicamente in mezzo a loro, capiscono meglio quel che è capitato. Si ricordano. È un'azione fondamentale che Giovanni attribuisce allo spirito paraclito. Vi ricorderà tutto quello che Gesù ha detto e vi condurrà alla verità tutta intera. È lo spirito del Risorto che fa memoria di Gesù, fa venire alla memoria il fatto storico e permette di capirlo meglio. Arrivano alla fede nella scrittura e nella parola di Gesù. Una stessa annotazione Giovanni la ripete al capitolo 12, proprio a proposito dell'asinello che Gesù adoperò per entrare in Gerusalemme in modo trionfale. L'Evangelista riporta un versetto del profeta Zaccaria. Come sta scritto? Non temere figlia di Sion, ecco il tuo re viene seduto sopra un puledro d'asina. Poi apre di nuovo una parentesi. Qui abbiamo proprio l'esperienza del evangelista narratore che fa capolino nel testo e ci spiega. Sul momento i suoi discepoli non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato si ricordarono che questo era stato scritto di lui e questo gli avevano fatto. Notate di nuovo l'insistenza sul verbo ricordare. E anche la sottolineatura della non comprensione. Sul momento Giovanni ammette, noi discepoli non abbiamo capito. Gesù è entrato su un asinello. Era una cosa un po' strana, l'abbiamo notata, ci è rimasta impressa nella memoria, ma che cosa significasse? non l'avevamo capito. Dopo averci pensato a lungo, lo spirito ha illuminato la comprensione e attraverso le scritture antiche hanno capito la storia di Gesù. Viceversa, attraverso l'esperienza storica di Gesù, hanno capito le scritture antiche. E si è venuto a creare quello che in gergo tecnico si chiama un circolo ermeneutico, una interpretazione circolare da Gesù alle scritture, dalle scritture a Gesù. Leggendo Isaia hanno capito meglio Gesù, ripensando a quello che ha fatto Gesù, hanno capito meglio Isaia. E passando dall'uno all'altro si è venuto a creare quell'insieme omogeneo della Sacra Scrittura, che comprende l'Antico e Nuovo Testamento, e ha Cristo al centro. Gli apostoli hanno vissuto in prima persona questa esperienza ermeneutica, questo impegno di interpretazione del senso. E Giovanni è quello, fra gli evangelisti, che maggiormente ha approfondito il significato. Chi è l'autore del quarto Vangelo? Il suo nome non compare nel testo. La tradizione antica unanimemente l'ha considerato il discepolo Giovanni, identificandolo con quel personaggio che viene definito il discepolo che Gesù amava. Chi ha chiuso il libro e ha redatto l'ultima parte, facendo il compito di redattore finale a nome della comunità, lo ha definito il discepolo che rende testimonianza. Infatti, se prendiamo gli ultimi versetti dell'ultimo capitolo di Giovanni, troviamo che è formulato in prima persona plurale. Questo, quello che Gesù aveva detto, voglio che rimanga fino alla mia venuta, questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti. Notate la differenza? Rende testimonianza è un presente, li ha scritti è un passato. L'opera di scrivere è finita. Giovanni è anche morto, ormai il lavoro è terminato, il testo è scritto, però la testimonianza continua. Questi è il discepolo che nel presente, oggi, adesso, nella nostra vita, continua a rendere testimonianza su questi fatti. C'è qualcuno che parla a nome di una comunità e parla del discepolo testimone, autore del testo. La sigla finale è della comunità giovannea. È quel gruppo cristiano che è vissuto con Giovanni e ha imparato da lui e ha collaborato con lui e quando ha chiuso il testo letterario, mette anche la propria firma. Noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Qualcosa del genere lo ha fatto l'Evangelista stesso al capitolo 19, proprio nel momento culminante, quando viene raccontato l'ultimo fatto della vita terrena di Gesù. Sulla croce Gesù emette, consegna lo spirito. Dopodiché un soldato gli apre il costato e esce sangue e acqua. Quell'acqua è segno dello spirito, è il tempio nuovo dalla cui apertura sgorga quel fiume spirituale. E lì l'Evangelista interviene a parlare di sé. Versetto 35. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. È un altro momento in cui il narratore entra nel testo e parla di sé e garantisce la propria presenza di testimone oculare che ha visto, che garantisce testimonianza in modo veritiero. E lo fa perché anche voi crediate. La sua esperienza vuole essere comunicata ad altri perché la fede che lui ha maturato possa diventare patrimonio anche della comunità che lo ascolta e che lo legge. Allora entriamo in dialogo, in amicizia con il personaggio di Giovanni, il discepolo testimone oculare che ha ripensato per tutta la vita alla persona di Gesù e ai fatti decisivi della sua esistenza terrena. E li ha proposti ai suoi amici, a quelli che vivevano nella sua comunità e li ha messi per iscritto perché tutti gli altri nei secoli potessero continuare a leggerli. Il titolo, il discepolo che Gesù amava, non ricorre in tutto il Vangelo, ma è concentrato solo nel finale e sostanzialmente è riproposto quattro volte, in quattro punti fondamentali. Provate a pensare, se vi vengono in mente, i passaggi in cui si nomina, senza fare il nome proprio, il discepolo che Gesù amava. La prima volta che l'espressione compare è all'inizio della cena. Quando Pietro gli fa cenno e questo discepolo che è nel seno di Gesù, cioè vicino a lui, a fianco, reclina il capo, lo mette sul petto di Gesù e gli sussurra la domanda. Il discepolo che Gesù amava è a tavola con Gesù, è a fianco, è adagiato su di lui in un abbraccio di amicizia e gli chiede qualcosa. La seconda ricorrenza è ai piedi della croce. Gesù, vedendo la madre, è lì presente il discepolo che egli amava, li consegna l'uno all'altro, unificando l'umanità, creando la nuova comunità. La terza volta? Al mattino di Pasqua, quando corrono al sepolcro Simon Pietro e l'altro discepolo, quello che Gesù amava, il quale arriva per primo, ma si ferma e aspetta Pietro. Quarta ricorrenza sul lago di Tiberiade durante la grande pesca. Pietro rimane solo meravigliato di riuscire a prendere tanti pesci e il primo che arriva al riconoscimento è proprio lui. Il discepolo che Gesù amava disse è il Signore! Dunque, questa formula non viene usata a caso, ma intenzionalmente in punti significativi nella cena, alla croce, al sepolcro vuoto, nella missione pastorale della Chiesa. E il discepolo che Gesù amava è vicino a Gesù, a fianco, ai piedi del morente, arriva per primo alla tomba vuota ed è il primo che riconosce il Signore. Il discepolo che Gesù amava, senza alcun dubbio, la tradizione patristica l'ha sempre identificato con l'autore del Vangelo, Giovanni, figlio di Zebedeo. Oggi gli studiosi pensano di poter aggiungere alcuni particolari importanti. Non si tratterebbe di un povero pescatore del lago, ignorante e analfabeta, ma del figlio di una famiglia sacerdotale di Gerusalemme. Quel riferimento ai figli di Zebedeo è da leggere come l'allusione ad una famiglia sacerdotale. Quindi, il fatto di pescare sul lago dice che avevano una impresa di pesca, non che fossero dei poveri operai analfabeti. E di fatto il personaggio di Giovanni si inserisce molto bene nel contesto di Gerusalemme, anche nel contesto dell'aristocrazia sacerdotale. E questo spiegherebbe la sua grande cultura biblica, la sua capacità interpretativa di approfondimento, di rilettura delle scritture. In ogni caso, ricostruendo, noi dobbiamo immaginare che l'Evangelista al tempo della vita storica di Gesù fosse poco più che un ragazzo. Non possiamo dire niente di più specifico, ma immaginiamo dai 15 ai 20 anni. Visse altri 70 anni, arrivando ad essere di 85-90 anni. Quella esperienza segnò la sua giovane età e non bloccò il suo studio. Cioè, continuò la sua vita normale. Continuò a studiare, continuò a pensare, a leggere e a meditare e crebbe, mettendo a frutto tutta quella ricchezza tradizionale che aveva. Proprio per questo egli ha elaborato un testo che è molto ricco di significati. Giovanni ha sviluppato soprattutto i segni di Gesù. Cioè, ritiene che la vita terrena dell'uomo Gesù con tutti i suoi fatti concreti sia segno della vita di Dio. concretamente la carne del logos cioè la vita terrena quello che è stato visibile sperimentabile dell'uomo Gesù è la logica di Dio. In quell'uomo concreto in quelle vicende particolari storiche è possibile riconoscere chi è Dio. Gesù è il rivelatore di Dio attraverso la sua vita storica e quindi tutti i fatti che Giovanni racconta li presenta come segni che devono essere interpretati che hanno un significato e quindi non bisogna fermarsi al particolare semplicemente dicendo se dice che erano sei le idrie erano sei basta è un dato di cronaca se lo dice non è perché semplicemente erano sei ma perché ritiene significativo che fossero sei e allora dobbiamo farci la domanda perché dice che erano sei fossero state cinque non sarebbe stata la stessa cosa o sette o quattordici e di pietra nel racconto delle nozze di Cana mancano tantissimi particolari non è detto chi si sposa è la cosa più importante no in una festa di nozze parlare degli sposi i quali non compaiono in compenso sappiamo tutto delle idrie se anziché di pietra fossero state di terracotta o di plastica cosa cambierebbe allora perché dire che erano di pietra e che erano sei e che giacevano e che servivano per la purificazione dei giudei perché tutti questi particolari hanno un significato per leggere bene Giovanni non spaventatevi ci vogliono 70 anni di meditazione quindi quest'anno non vi basta qualcuno di voi ha già cominciato non è il primo anno che prendete in mano Giovanni però effettivamente per poter capire tutto quello che un autore mette in un libro bisogna sapere tutto quello che sapeva l'autore e dato che lui ci ha pensato per tanti anni noi non possiamo pretendere che ad una prima lettura capiamo tutto in genere quando spiego queste cose l'obiezione della gente è ma è possibile Giovanni pensava a tutte queste cose sembra strano alla gente che Giovanni avesse questa profondità ma se ci arriviamo noi poveri studiosi moderni volete che non ci arrivasse lui giovane intelligente con l'esperienza di grazia che ha fatto con il dono dello spirito che lo ha illuminato io non ci arrivo ma devo immaginare che c'è nel testo molto di più di quel che mi sembra per cui diventa affascinante affrontare un testo alla ricerca di una profondità eccezionale non lo leggo per avere delle notiziole di cronaca ma per entrare in comunione con quell'amico di Gesù figura ideale che rilancia me perché in fondo quel discepolo che Gesù amava sono io lo dice ognuno che si mette nel testo io sono chiamato alla cena ai piedi della croce a correre al sepolcro a riconoscerlo mentre mi sto dando da fare nella mia pastorale a riconoscere che è il Signore allora i segni hanno bisogno di essere interpretati e questo è il grande lavoro che dobbiamo fare ed è un lavoro di tipo simbolico simbolo è una parola classica antica della lingua greca che significa mettere insieme il verbo greco simballo significa appunto mettere insieme nell'antichità classica il simbolo era un oggetto spezzato in due parti immaginate un oggetto di terracotta o di vetro un piatto che venga spezzato in due si forma una frattura che è unica e i due pezzi per ricreare una totalità devono combaciare insieme il simbolo è un pezzo e diventa una specie di tessera di riconoscimento io conservo una parte a te affido l'altra parte quando ci incontriamo mettiamo insieme i due pezzi e componiamo il tutto la lettura simbolica quindi è la lettura che cerca di comprendere tutto di ricreare la totalità è il termine che viene adoperato per indicare la meditazione lo adopera San Luca non San Giovanni quando dice che Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore quel verbo meditare in greco è simballusa mettendo insieme le cose mettendo insieme i pezzi Maria faceva il puzzle lo componeva pezzo dopo pezzo ha messo insieme i particolari per avere la grande visione di insieme la meditazione è un procedimento simbolico è l'azione con cui noi mettiamo insieme il tutto la parola che leggiamo l'esperienza della vita l'insegnamento della chiesa la luce dello spirito e arriviamo ad una pienezza di vita di fede sapete qual è il contrario di simbolico un'altra parola greca molto comune diavolo è il contrario di simbolo diavolo è quello che non mette insieme ma divide è una tessera falsa è un pezzo che non combacia con l'altro permettetemi una battuta se non impariamo a leggere simbolicamente il Vangelo rischiamo di fare delle letture diaboliche cioè che non portano da nessuna parte che non costruiscono la lettura simbolica non significa perdere la storicità del testo significa acquistare la ricchezza teologica del testo ed è proprio il lavoro che ogni lettore di San Giovanni è chiamato a fare un impegnativo lavoro simbolico il racconto di Giovanni è ben strutturato ed è strutturato come un cammino anzitutto egli ha messo un prologo ma il prologo un po' come l'ouverture di un'opera viene scritto alla fine in genere l'introduzione a un libro è l'ultima cosa che l'autore scrive anche in un'opera musicale l'autore terminata l'opera prende le arie migliori le rielabora e le fa diventare sinfonia d'apertura così il prologo è la sinfonia d'apertura composta dall'autore ormai anziano capace di una sintesi estrema e viene messo all'inizio ma lo si capisce alla fine e questo ci dice che è necessaria una lettura circolare cioè arrivati in fondo ricominciamo e continuiamo perché la seconda volta capiremo di più della prima perché siamo più ricchi abbiamo già capito qualche simbolo e ogni volta che ritorniamo sul testo capiamo qualcosa di più non illudetevi mai di avere capito tutto c'è sempre qualche cosa in più che questa ricchezza enorme della parola può darmi non abbiate paura di asciugare la sorgente bevete tranquillamente se ne sarà sempre dunque il prologo apre e subito dopo alcuni episodi li abbiamo ascoltati proclamati poco fa sono i momenti del passaggio da Giovanni Battista a Gesù una settimana iniziale è importante il giorno dopo il giorno dopo il giorno dopo il terzo giorno li conto e dico sono sette giorni il Vangelo di Giovanni comincia con sette giorni dice niente vedete che l'avete capito da soli i simboli sono molto semplici bisogna proprio ridirci le cose notarle vedere che ci sono quelle quattro del pomeriggio sono in realtà l'ora decima la traduzione ha voluto aiutarci con il nostro orologio ma abbiamo perso il gioco simbolico con i numeri antichi ricordare che quando si fermarono con Gesù e uno dei due era Giovanni modestamente dice uno dei due era Andrea e l'altro vabbè facciamo perdere se te lo dico è un modo con cui l'autore lascia capire di essere stato dei primi a seguirlo ma non si mette in mostra rimasero con lui rimasero dove rimani videro e rimasero era l'ora decima e il dieci è un numero di completezza se non altro perché abbiamo dieci dita per la pienezza dei dieci comandamenti delle dieci parole con cui Dio ha creato il mondo Giovanni è un giudeo di tradizione sacerdotale e da grande peso ai numeri ai piccoli particolari sono significativi hanno un valore al di là della matematica hanno un senso teologico la settimana culmina con le nozze di Cana partiamo con una celebrazione nuziale in cui è presente Gesù e lì compie l'archetipo dei segni non è semplicemente il primo miracolo è l'arche dei segni è il principio dei segni al capitolo 4 di nuovo a Cana l'evangelista dice che Gesù ha fatto il secondo segno e allora ha creato un primo blocco da Cana a Cana primo segno secondo segno il primo segno riguarda una cosa l'acqua non l'acqua di sorgente l'acqua lustrale quella delle idrie che servivano per la purificazione dei giudei l'acqua vecchia del rituale giudaico di pietra come le tavole o come il cuore dell'uomo sei simbolo della imperfezione giacenti quelle idrie diventano una nuova realtà attingendo quell'acqua in tavola c'è ottimo vino ma il capotavola non sa da dove viene il vino il capotavola è l'immagine dei capi di Gerusalemme delle autorità che hanno visto che Gesù dice delle belle cose che è una bella persona però non sanno da dove viene lo giudicano lo criticano lo disprezzano hai tenuto fino ad ora il vino buono chi è che ha fornito il vino? lo sposo cioè Gesù quel racconto non è un racconto di cronaca ma è un intarsio teologico per mostrare il rinnovamento dell'alleanza l'archetipo dei segni è la trasformazione dell'alleanza dall'acqua per le purificazioni lustrali al vino eucaristico è il sangue di Cristo della nuova ed eterna alleanza e di fatti a Cana c'è la madre come ai piedi della croce e i discepoli come ai piedi della croce a Cana c'è il segno non è ancora giunta l'ora sulla croce è giunta l'ora lì si celebra si istituisce la nuova alleanza nel sangue di Cristo celebrato sacramentalmente col vino il primo segno dice un cambiamento delle istituzioni un compimento un perfezionamento le istituzioni di Israele sono portate alla sua piena realizzazione a Cana l'alleanza poi il tempio a Gerusalemme il tempio è il corpo di Gesù poi con Nicodemo non la legge ma la grazia il dono dello spirito salva poi la samaritana prima ancora Giovanni Battista superamento dei mediatori lui deve crescere io diminuire e con la samaritana la domanda dov'è il luogo del culto nel monte nel tempio adorare il padre nello spirito santo donato da Gesù che è la verità la trinità è il luogo bisogna entrare in comunione con queste persone per poter adorare non è una sostituzione ma un compimento il ciclo delle istituzioni comincia a Cana e termina a Cana secondo segno a Cana Gesù dà la vita al figlio del funzionario ripetendo tre volte la formula tuo figlio vive qui siamo a livello di persona è questione di far vivere il figlio la vita di quell'uomo che è figlio dà il tono e il tema alla seconda grande parte narrativa del Vangelo di Giovanni che potremmo chiamare il ciclo dell'uomo caratterizzato da altri segni come suggerimento vi propongo proprio quello di seguire i segni sono sette i segni raccontati da Giovanni non è casuale il primo a Cana il secondo a Cana e poi gli altri cinque che caratterizzano l'uomo l'uomo paralizzato incontrando Gesù impara a camminare con le proprie gambe e si mette in cammino per fare l'esodo e subito dopo viene nutrito nel deserto l'uomo affamato poi i discepoli impauriti sul lago incontrano Gesù che cammina sulle acque altri due simboli dell'esodo dar da mangiare in un luogo desertico e attraversare a piedi il mare poi c'è l'uomo cieco l'uomo cieco dalla nascita che non può vedere viene preceduto dalla grazia e nel fonte battesimale la piscina di Silo viene ricreato Gesù fa del fango lo spalma sugli occhi è un segno di nuova creazione sta creando l'uomo nuovo sta aprendo gli occhi all'umanità per permettere a ognuno di noi mendicante nato cieco di vedere Dio di credere in Lui e l'ultimo segno il vertice è la rianimazione di Lazzaro preferisco non usare risurrezione per usarla solo per Gesù Lazzaro è l'amico morto a cui Gesù dà la vita però Giovanni fa notare ed è uno snodo importantissimo nella trama che il fatto di essere tornato in Giudea gli costò la vita perché lo arrestarono subito dopo fu la goccia che fece traboccare il vaso dopo il fatto di Lazzaro il Sinedrio decise che bisognava eliminare Gesù dare la vita all'amico costa la vita a Gesù è il settimo segno dare la vita dare la vita all'amico e Lazzaro viene presentato un po' come l'Evangelista colui che tu ami è ammalato guarda come lo amava Gesù voleva molto bene a Lazzaro a Marta e a Maria è una casa di amicizia c'è un rapporto di amicizia e per quell'amico Gesù dà la vita dà la vita perché lo fa vivere e perde la propria inizia così la seconda grande parte dopo il libro dei segni il libro dell'ora con i discorsi dell'ultima cena il racconto della passione che in Giovanni ha un significato particolare di gloria e poi l'incontro con il risorto l'obiettivo finale è proprio quello del dono dello spirito nell'ora di Gesù viene dato lo spirito Gesù si presenta come colui che dà lo spirito ma dare lo spirito significa comunicare la vita di Dio Gesù è il rivelatore del Padre non perché spiega delle dottrine delle teorie su Dio ma perché comunica lo spirito di Dio Gesù rivela il Padre comunicando la vita personale di Dio e il momento del dono dello spirito è sulla croce consegnò lo spirito è la grande tradizione in latino si dice tradidit e finalmente la nuova traduzione ci ha permesso di leggere consegnò lo spirito purtroppo abbiamo letto per decenni Spiro invece è una formula originale coniata proprio da Giovanni pare do che in top ne ma consegnò è la grande tradizione la vita di Dio è consegnata alla madre e al discepolo piccolo particolare dobbiamo imparare a parlare anche nella catechesi come il Vangelo non seguite questo o quel predicatore perché ognuno ha le sue manie e ci sono varie mode abituatevi a parlare come il Vangelo Giovanni non dice che a Cana c'era la Madonna non dice che c'era Maria dice c'era la madre di Gesù ai piedi della croce chi c'era Maria e Giovanni questa è un'affermazione tua impara a parlare come il Vangelo ai piedi della croce c'era la madre e il discepolo perché c'è una differenza fra il nome proprio e questo nome comune che indica la funzione se l'ha scelto qualche motivo ci sarà mio compito è capire perché usa questa espressione e da buon discepolo io devo imparare a fare come lui la madre è la figura simbolica di ciò che ha preceduto di tutto il popolo che ha preparato la venuta la nascita del messia mentre il discepolo è colui che continua che ha imparato dal maestro e porta avanti la predicazione la madre è il passato il discepolo è il futuro sant'ommaso quando commenta dice che la madre è figura della sinagoga e il discepolo è figura della chiesa antico e nuovo testamento è la grande riunione del popolo di dio nella sua forma antica nella forma nuova e la madre viene affidata al discepolo e il discepolo prende tutta la tradizione antica la ricchezza della scrittura l'alleanza del popolo di israele con sé in sua fra le cose che gli sono proprie e di lì nasce la grande testimonianza apostolica di giovanni e nell'incontro con il risorto abbiamo alcune figure e le accenno solo perdonate da una parte la lunghezza e dall'altra l'estrema sintesi perché parlare di un testo che è nato in 70 anni in un'ora è un lavoro difficilissimo e allora mi sono accontentato di accennare qualcosa dovrete leggere e studiare parecchio per gustarlo ma se in questa occasione fosse venuto o fosse cresciuto il desiderio di leggerlo e di studiarlo sarebbe già un successo chiudo con tre figure che in qualche modo ci rappresentano Maria di Magdala piange al sepolcro ha una sua idea in testa vuole bene a Gesù ma è fissata continua a piangere e a cercare il cadavere perché gli vuole bene e non si rende conto che è un falso problema che è già risolto finché non la chiama chissà che tono ha usato Gesù perché nel testo scritto non c'è il tono Gesù le disse Maria probabilmente non le disse Maria quando lei se l'hai portato via tu l'ha preso per il giardiniere il custode del giardino si sbaglia o ha ragione il fatto che lo dica Giovanni è importante perché da un certo punto di vista si sbaglia non è il giardiniere Gesù ma da un altro punto di vista ha ragione è il custode del giardino ma giardino in che senso? avete capito da soli bravi certo è veramente colui che ha custodito il giardino e ha riaperto il giardino ma lei non l'ha capito se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai messo io vado a prenderlo Gesù le dice Maria ma è possibile provate a pensare in quanti modi diversi si può pronunciare il nome di una persona sempre solo il nome col tono di voce gli fai tanti discorsi diversi le si aprono gli occhi e lo riconosce maestro mio e gli si butta ai piedi abbiamo bisogno di sentire il maestro che pronuncia proprio il nostro nome magari con un tono un po' di rimprovero che ci scuote ci vuole bene e cerca di svegliarci perché lo riconosciamo e superiamo le nostre fissazioni secondo personaggio è Tommaso Giovanni ci tiene a dire che il suo nome significa gemello purtroppo qui la traduzione non ci ha aiutato perché continuano a proporci il greco Tommaso detto Didimo Didimo non è il soprannome di Tommaso è la traduzione in greco di Tommà che è aramaico allora chi sa il greco capisce cosa vuol dire Didimo ma per noi che non lo sappiamo avremmo bisogno di sapere che vuol dire gemello Tomà in aramaico vuol dire gemello perché l'autore ci tiene a farci sapere cosa significa quel nome proprio se lo dice un motivo ci sarà allora il nostro compito di esegetti è cercare di capire perché Giovanni racconta così perché dice quello che dice io posso suggerirvi qualcosa come tanti che scrivono libri però è importante che voi impariate a farvi le domande quando riuscite a fare le domande al testo poi le risposte le troverete o forse la più bella verrà dal vostro cuore quella più convincente ma la strada giusta è imparare a fare domande perché Tommaso si chiama gemello perché il suo nome perché Giovanni lo dice perché è il mio gemello è il gemello del lettore che segue Gesù da incredulo ma io ho possibilità di vedere Gesù sì che ho la possibilità ho il testo evangelico fra le mani questo è il modo con cui io oggi senza vedere fisicamente l'uomo Gesù posso simbolicamente incontrarlo vederlo toccarlo vivere con lui e il terzo personaggio è il discepolo amato una persona che ha incontrato Gesù e passa la vita a pensare a lui e a parlare di lui vi auguro con tutto il cuore che questo anno pastorale che dedicate alla parola vi aiuti a riconoscere come Maria di Magdala come Tommaso come Giovanni il risorto e a aderire a lui con tutto il cuore riconoscendo che è il mio Signore e il mio Dio grazie e buon cammino gli interventi devono essere domande o anche riflessioni non più di due minuti e mezzo perché abbiamo soltanto venti minuti in tutto nel frattempo che qualcuno si prepara vorrei anche presentarvi questa opera che ho nelle mani edita dalla cittadella di Assisi è stata appunto scritta dal professore Doglio è un commento alle beatitudini beati voi la bella notizia delle beatitudini don Antonio Lova che è il responsabile della cittadella editrice che me l'ha appena consegnata ha anche detto che per i convenisti quest'opera potrà essere acquistata qui fuori con circa il 50% di sconto praticamente prezzo di stampa quindi chi vuole approfittarne la può trovare nel corridoio Banco Cittadella Editrice c'è qualcuno che vuole prendere la parola diceva Oscar Wilde che a dare risposte sono capaci tutti ma per fare domande intelligenti ci vuole un genio prego per mettere a proprio agio l'assemblea chiedete pure o è stato talmente completo e perfetto che non c'è bisogno di far domande oppure talmente confuso che non ci si racchiappezza più decidete voi prego sì volevo volevo chiederle di di approfondire semmai perché quando si rivolge alla madre a Cana e si rivolge alla madre sotto la croce mi pare che poi utilizza anche il termine donna dobbiamo intenderlo sempre nell'ottica in cui lei ha presentato il termine madre o aggiunge altro grazie questa è una tipica domanda simbolica giustamente perché adopera quel termine non è normale che un figlio si rivolga alla madre chiamando la donna è una formulazione quindi significativa aggiunge qualcosa è proprio l'immagine femminile aggiunge l'idea dell'alleanza perché se Gesù è Dio che fa alleanza con il popolo la donna è figura del popolo e quindi rivolgersi alla madre col titolo di donna serve al lettore per capire che quel personaggio è figura femminile rappresentativa sintetica richiama appunto il popolo altre persone sono chiamate donna da Gesù la samaritana credi a me donna l'adultera del capitolo 8 nessuno ti ha condannata donna poi di nuovo la madre donna ecco tuo figlio e infine la maddalena donna chi cerchi allora scegliendole le prendiamo insieme e ragioniamo qualcuno ha voluto vedere anche un itinerario la madre è l'israele fedele la donna di samaria è il popolo infedele l'adultera è immagine dei pagani dei lontani le tre donne poi sotto sotto la croce la donna dell'antico testamento unita al discepolo e maddalena nel primo giorno della nuova settimana figura della chiesa è la nuova creazione in un giardino il primo giorno un uomo e una donna è l'inizio della nuova realtà della esperienza della chiesa sono possibili approfondimenti ma la chiave simbolica ci aiuta a leggere non è detto che si esauriscano e che dicano tutto però sono indizi che ci aiutano a capire buonasera se in Giovanni siamo anche noi quei discepoli ci può attualizzare come possiamo noi ritrovarci in questa figura cioè Giovanni siamo noi no? anche quindi noi possiamo continuare a percorrere la strada di Giovanni che significa per noi essere Giovanni oggi grazie anzitutto significa stare con Gesù dove abiti dove dimori dove rimani dove poni la tua consistenza venite e vedrete andarono videro rimasero con lui possiamo allora domandarci cosa significa per noi rimanere con Gesù rimanere fedeli alla parola leggere e rileggere meditare ascoltare in profondità la parola rimanere con Gesù nella vita sacramentale e celebrarne la presenza come amicizia accogliendone la grazia dall'ascolto della parola e dalla forza ricevuta dai sacramenti noi rimaniamo con Gesù nella vita di tutti i giorni nella famiglia nella società nella scuola nel tempo libero con le persone con cui condividiamo la vita e continuamente ognuno deve domandarsi cosa significa per me testimoniare Gesù rimanere con lui oggi qui dove sono quello che sto facendo adesso e allora il cammino di Giovanni è stato un cammino estremamente variegato provate a immaginarvelo 15 anni ha conosciuto Gesù e tre anni dopo Gesù sparisce nella risurrezione Gesù non è più presente fisicamente Giovanni si è trovato lì a Gerusalemme senza un lavoro con una impostazione di vita da costruire non abbiamo notizie cosa fece vent'anni trent'anni quaranta cinquanta sessanta visse a Gerusalemme si trasferì altrove fosse in Samaria arrivò nella regione di Efeso dopo il settanta vi era ancora intorno al cento invecchiò cambiò città ci fu una vita piena di cose che noi non conosciamo e in tutte queste situazioni diverse Giovanni rimase con Gesù e cercò di vivere quelle nuove situazioni nello spirito che il maestro gli aveva comunicato allora la nostra attualizzazione è sempre legata al testo e alla vita è un circolo ermeneutico la nostra vita ci fa capire il testo e il testo ci fa capire la vita continuamente vorrei sottolineare una donosca vorrei sottolineare due equivoci per i lettori del Vangelo di Giovanni il primo il discepolo che Gesù amava noi abbiamo tradotto il discepolo prediletto aggiungendoci il discepolo che Gesù amava di più non c'è quel di più il discepolo che Gesù amava è come ha detto lei un credente è uno che si è sentito amato quando Gesù ha detto avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino alla fine ha capito che cosa vuol dire essere amati ma non ha escluso nessuno ma non ha non ha mai detto io sono il preferito di Gesù anche perché tenendo conto della sensibilità degli apostoli dire il prediletto di Gesù significava suscitare un putiferio come quando la madre dei figli di Zebedeo chiese un posto di privilegio per i suoi figli suscitò un putiferio non è detto dunque che il discepolo che Gesù ha amato di più ma il discepolo che Gesù amava e ciascuno di noi si sente dopo la cena dopo la Pasqua si sente il discepolo che Gesù ama si deve sentire così un altro equivoco che noi affrontiamo quando leggiamo il Vangelo di Giovanni è la famosa Maddalena peccatrice Maddalena peccatrice lo dice Giovanni anche che aveva scacciato otto demoni da lei che vuol dire vuol dire che era una peccatrice mai Gesù nel Vangelo abbina il peccato con il diavolo i peccatori non sono indiavolati non sono condotti dal diavolo salterebbe la libertà umana la donna che ha avuto sette demoni era una pazza pazza come il pazzo di Gerapoli di della di là del Giordano no di Gadara come il pazzo di Gadara che ce n'aveva addirittura duemila no di diavoli dentro ma era pazzo non era un peccatore così era la Maddalena e vi dice una cosa molto importante l'apparizione di Gesù alla Maddalena al momento della sua risurrezione perché perché agisce da pazza come abbiamo detto cioè hanno portato l'idea fissa hanno portato via il Signore e non so dove l'hanno posto non vede più niente non sente più niente perché in quel momento un angelo da dentro il sepolcro gli dice donna perché piangi hanno portato via il Signore e io non so dove l'hanno messo no arriva Gesù e ripete la stessa storia la stessa frase che ha detto anche ai discepoli nel Cenacolo hanno portato via il Signore e non so dove l'hanno messo dunque un'idea fissa perché Gesù è arrivato all'apparizione di Maddalena c'è una frase molto interessante nel Vangelo di Giovanni in cui Gesù dice alla Maddalena non sono ancora salito al Padre mio vai dai miei discepoli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro Dio mio Dio vostro vuol dire che ha rimandato la sua scesa al Padre per salvare quella donna prima devo rimettere a posto le rotelle di questa donna di Maddalena e poi tu Padre puoi aspettare ma questa non può aspettare se non mi va fuori testa del tutto ecco la Maddalena appare nel Vangelo di Giovanni come una pazza guarita da Gesù e che al momento della morte di Gesù rischia di ricadere nella sua pazzia e Gesù la viene a curare prima ancora di salire al cielo come se avesse detto al Padre tu aspetta prima vado a curare Maddalena poi poi vengo da te grazie Sulla donna vorrei sapere, l'aramaico non lo so, credo che Gesù ce lo dimostra poi domenica scorsa, quell'efta apriti è detto in aramaico, quindi Gesù parlava in aramaico. La parola donna, portata da noi per esempio il latino, la femmina è una cosa, la mulier è un'altra, la femmina è una bella donna, mulier è una donna che è bella, che ha il carattere, che ha una personalità, quindi sono due cose. Dante, donna, sei tanto grande, la chiama donna, poi dopo magari aggiungono nel medioevo ma e quindi diventa ma donna, quindi vorrei sapere se nell'aramaico c'è questa distinzione come latino tra femmina e mulier. La seconda cosa che vorrei dire è quel venite e vedrete. Io mi ricordo Giussani, fondatore di G.S. e poi C.L., comunione e liberazione, o meglio, lui diceva comunione e liberazione. E lui basava tutta la sua potenza, il suo discorso, la sua dottrina dei C.L., venite e vedrete. Cioè il cristianesimo non è una teoria, non è una filosofia, è un andare dietro, dietro a Gesù. E poi un'altra cosa dell'idria, a me mi sembra, non ci vedo nessun simbolo, perché l'idria era quella pietra scavata che gli ebrei tenevano alle porte delle case e ci mettevano l'acqua, l'acqua solamente piovana, per purificarsi. Quindi quelle sei idrie che stanno fuori, io non ci vedo, era una cosa normale. Tutte le cose sono normali, però quando un narratore in un testo estremamente ridotto sceglie di raccontare in un certo modo e di adoperare certi particolari, fa diventare simbolico. Il fatto della piscina di Siloe è semplicemente un riferimento ad una cisterna di raccolta delle acque presente a Gerusalemme. Basta. Dobbiamo imparare a distinguere bene il fatto, gli oggetti e i luoghi dal racconto. Il racconto è il modo con cui un autore comunica un messaggio, presentando fatti, luoghi, persone. Allora, la domanda corretta non è semmai perché ce n'erano sei, oppure perché Gesù la chiama donna. Dobbiamo essere più fini. Perché Giovanni mette in bocca a Gesù il termine donna? Questa è la dinamica simbolica. Perché insiste tanto sulle idrie, offrendo molti particolari? Perché assumono un valore simbolico. Così il riferimento alla donna. Anche questo sistema della ricostruzione ipotetica della lingua funziona fino a un certo punto. Perché laddove gli evangelisti hanno voluto conservare la forma aramaica, l'hanno conservata. Ad esempio, Marco lo fa più spesso degli altri. Ma laddove gli evangelisti non l'hanno conservata, diventa un'elaborazione nostra che rischia di forzare il testo. Allora, dato che il testo è scritto in greco, noi dobbiamo fare forza ermeneutica sul greco, non sulla ipotetica versione in una lingua semitica, da cui poi dedurre qualcosa, perché ricostruiamo di nostro. Ora, non dobbiamo lavorare sull'aramaico, ma sul greco. E nella lingua greca il termine gynè indica la moglie e la donna in genere. Quindi è il riferimento generico alla donna, ma come mulier. Tant'è vero che in italiano mulier è diventato moglie. Per cui il riferimento è particolarmente simbolico come partner dell'alleanza. È la figura femminile intesa come parte del simbolo il Signore ha sposato il suo popolo. I profeti hanno usato molte volte l'immagine del popolo come una donna. la vergine figlia di Israele, adultera, è la figlia di Sion, ha tradito, abbandonata, ripresa, purificata. Tutte queste immagini vengono riproposte da Giovanni in chiave simboliche. Quindi l'uso della donna assume un valore molto forte e significativo. La madre di Gesù è l'aspetto positivo e buono di questa figura femminile come altra parte dell'alleanza. Il cristianesimo è comunione con Gesù. Certamente. È proprio... Non è una idea di Giussani, la valorizzata, ma è una convinzione comune alla tradizione cristiana. Non una dottrina, non una teoria, ma l'incontro con una persona. È una esperienza vitale con una persona. Ecco perché vi raccomandavo di leggere il testo come una esperienza vitale, tenendo conto che dietro al testo c'è il discepolo che Gesù amava. E io sono l'altro discepolo che Gesù ama. Insieme rimaniamo con Gesù. Le mie parole rimangano in voi, dice Gesù ai discepoli. Così rimarrete in me e io in voi. La strada migliore per rimanere è conservare le parole, custodirle, ricordarle, comprenderle, applicarle alla vita. Li amò sino alla fine, diceva prima Don Oscar. Non è semplicemente li amò finché ebbe respiro, finché finì la vita, ma li amò fino a far raggiungere l'obiettivo. Li amò eis telos, in finem, verso il fine. Guardate che differenza c'è in italiano fra il maschile e il femminile. La fine è cosa diversa rispetto a il fine. Proviamo a tradurre. Li amò fino al fine. Cambia, vero? Li amò in modo tale che loro raggiungessero il fine. E il fine è l'incontro con Dio, la vita in comunione con Dio. L'amore che Dio dimostra in Gesù fa sì che l'uomo possa rispondere all'amore. Una traduzione, un po' forzata ma molto bella, della formula del prologo, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, mi induce a intendere quella grazia come affetto, benevolenza, non una sull'altra. In greco dice carin anti caritos, graziam pro grazia. Potremmo tradurre, dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto un amore che risponde all'amore. abbiamo ricevuto la capacità di rispondergli nel modo con cui egli ci ha parlato. Non perché siamo bravi noi, ma perché siamo stati resi capaci di dialogare. Il logos diventa scambio di logos, diventa dialogo. L'amore che abbiamo ricevuto ci ha resi capaci di restituirlo, di amarlo come ci ha amati. Amatevi come io ho amato voi. Poiché io ho amato voi, vi ho resi capaci di rispondere all'amore con l'amore. Rimanere nella parola, leggere, meditarla, gustarla, rimanere in comunione con la persona di Gesù porta al fine la nostra vita. Ci rende persone capaci di amare veramente. Dobbiamo interrompere questa conversazione che potrebbe continuare a lungo con grande gioia e partecipazione ma l'orologio non è un optional ma detta la legge quando facciamo incontri comunitari. A me compete il compito di ringraziare in modo molto intenso convinto il carissimo Don Claudio Doglio perché lui ci ha detto che ci vorrebbero 70 anni visto che il Vangelo è stato elaborato in questo tempo ma noi comunque abbiamo vissuto 70 minuti esattamente 70 minuti di consolazione spirituale. Abbiamo sperimentato e lo ringraziamo di cuore questa felice sintesi e non sarà un caso sarà un simbolo anche quello. Ma mi avete applaudito prima che io terminassi? Dunque questa felice sintesi nella sua persona della sapienza non soltanto mentis ma l'abbiamo sperimentato anche della sua sapienza cordis. Grazie Don Claudio. Grazie a voi buon lavoro buon anno pastorale. Padre Giovanni Padre Giovanni Mentre il nostro apprezzatissimo relatore come si dice guadagna l'uscita perché deve recarsi a Roma noi puntualmente ci apprezziamo ad ascoltare una riflessione del nostro giochiamo in casa ora Monsignor Girolamo Don Girolamo Giovannini che attualmente ricopre l'incarico di vicario episcopale per la pastorale e in questa veste lui si trova qui sul palco Don Girolamo ha completato la sua formazione e la sua esperienza pastorale in modo particolare nell'altra parte di questa diocesi al di là del subasio la diocesi che è stata poi unita a quella di Assisi si chiamava da cui provengo anch'io tra l'altro si chiamava Nocera e Gualdo adesso è diventata Assisi Nocera e Umbra Gualdo Tadino fu ordinato è stato ordinato sacerdote nel 1959 ha svolto l'incarico di rettore nel seminario diocesano di Nocera Umbra e anche direttore accompagnatore spirituale e da qualche tempo è parroco di una parrocchia nella zona di Nocera Umbra si chiama San Giovenale mi pare dal 1992 è stato anche vicario generale quando le diocesi furono abbinate i due vicari generali furono abbinati anch'essi lui era di là io stavo di qua poi dopo un po' di tempo sono riuscito a farlo fuori e quindi sono restato soltanto io subito subito non subito dopo un po' di tempo bene adesso noi ascolteremo con molta attenzione perché la sua esperienza pastorale è molto intensa questo tema dietro a Gesù nell'anno della fede verso il sinodo diocesano mezz'ora di tempo per ascoltare Don Girolamo naturalmente questo intervento doveva farlo il vicario generale ma quando non manca qualcuno bisogna sostituirlo allora che senso ha questo mio intervento a quello di semplificare il più possibile il compito che ci spetta in questo anno che prende il via proprio da questa assemblea perché come ha accennato il vescovo nelle prime parole che ha detto si potrebbe avere l'impressione di un cumulo di impegni che ci spettano per varie confluenze per cui può capitare non gli dico come ho scritto cosa scritto su certe cose al vescovo dicendo che l'impressione può diventare una realtà cioè che dice ma se ho troppe cose da fare allora io faccio quello che posso e via invece no bisognerebbe vedere proprio con precisione e il mio compito è di semplificare il cammino dunque dietro Gesù nell'anno della fede verso il sinodo diocesano questo che stiamo vivendo possiamo chiamarlo la convocazione degli stati generali quella che il vescovo fa ogni anno per rimettere a fuoco il programma quadriennale che è giunto felicemente al terzo anno per dettagliare il piano di azione per farlo arrivare e questo è molto importante per farlo arrivare quanto più possibile alla base o se vogliamo in trincea è cosa assai importante suscitare consensi e adesioni e accendere entusiasmo per un impegno pastorale che ci si presenta non solo ideale ma anche adeguato alle nostre necessità e proporzionato alle nostre possibilità il programma vero e proprio ce lo consegnerà domenica il vescovo nella cattedrale di San Rufino mio compito in questo breve intervento è quello di puntualizzare l'itinerario o se vogliamo dire come è impostato il navigatore per il viaggio che stiamo per intraprendere l'anno pastorale 2012-2013 prevede l'attuazione della terza tappa del quadriennio della parola quella descritta dettagliatamente nella lettera pastorale del 2010 conversava con noi è il capitolo terzo della lettera che si intitola lo riconobbero nello spezzare il pane è l'anno in cui la nostra chiesa è chiamata ad avvicinarsi in modo speciale al Vangelo l'anno dei Vangeli al numero 24 della lettera il vescovo scrive è stato letto in parte anche prima però mi sembra importante farci un pochino di attenzione particolare per cogliere tante ricchezze un'introduzione generale a tutti i Vangeli sarà necessaria ma sceglieremo come speciale punto di attenzione il Vangelo di Giovanni normalmente il popolo cristiano che frequenta l'Eucaristia domenicale conosce abbastanza i racconti sinottici ma poco il quarto Vangelo è una lacuna da colmare esso è il Vangelo in cui insieme alla sottolineatura della umanità di Gesù è particolarmente evidenziata la sua divinità ciò che nella cultura odierna è più difficile accettare ed è sottoposto a numerosi attacchi il nostro terzo anno della parola ci aiuti a cadere ai piedi del risorto come l'apostolo Tommaso quando vincendo le sue titubanze confessò mio Signore e mio Dio e con questa frase si conclude tutto quello che il Vescovo ha scritto nel terzo capitolo ecco dunque la strada da percorrere quest'anno per consolazione mia e dei miei confratelli ricordo che il Vescovo in visita pastorale la visita pastorale sta nelle ultime battute ci ha spianato la strada battendo e ribattendo su questo argomento in tutte le occasioni opportune ed importune mi limito a fare solo due considerazioni l'esperienza fatta nei due anni precedenti ci permette di iniziare questo terzo anno con più sicurezza e più determinazione oggi sappiamo meglio che cosa evitare e su che cosa soprattutto puntare e come procedere sta di fatto e lo possiamo credo percepire tutti che un movimento di accostamento alla parola di Dio si percepisce dovunque nella Diocesi in alcune zone di più probabilmente favorite da qualche componente particolare di questo movimento possiamo sinceramente rallegrarci è un segno inconfondibile di tempi migliori che arriveranno mi hanno impressionato nei giorni in cui stampa e televisione mettevano giustamente risalto la figura del cardinale Martini le dichiarazioni di tanta gente anche semplice segnata nella loro giovinezza dall'azione pastorale del loro escovo un'azione tutta incentrata nel portare la gente all'ascolto della parola di Dio parola offerta a tutte le categorie ne sono testimonianza le lettere pastorali che puntualmente ogni anno produceva il cardinale fece epoca allora l'iniziativa audace del giovane cardinale che raccoglieva in Duomo migliaia di adolescenti e di giovani per l'Alezio Divina Milano non ce lo dimentichiamo viveva ancora gli anni di piombo conclusi dimostrativamente con la consegna proprio all'Arcivescovo delle armi della sovversione dunque il terzo anno della parola sarà l'itinerario del nostro anno pastorale e come dicevo prima alla luce dei due precedenti anni siamo sollecitati a programmare subito le nostre iniziative vicariato per vicariato in modo da realizzare un anno veramente incisivo non vorrei neanche sfiorare tutto quello che ha detto l'oratore don Claudio perché è stato bellissimo volevo solo ricordare un particolare che forse a qualcuno potrebbe interessare alla fine dell'ottocento e all'inizio del novecento un nostro sacerdote certo don Francesco Mari fece la prima traduzione del quarto vangelo del quarto vangelo e si era in tempi molto difficili per gli esegeti molto difficili ne subì molte conseguenze nell'archivio del nostro seminario della diocesi la sua nocera abbiamo riportato qualche mese fa un quaderno di un alunno un sacerdote ormai nell'eternità da parecchio tempo che prendeva appunti sulle lezioni di questo Mari che spiegava il quarto vangelo di San Giovanni erano i primi studi sul quarto vangelo quindi siamo c'è già una radice c'è già una radice per approfondire il cammino dentro questo alveo ci sarà facilitato da alcune opportunità che la provvidenza ha fatto confluire nell'anno pastorale 2012 2013 come tutti sappiamo l'11 ottobre prossimo avrà inizio l'anno della fede indetto con motu proprio da Benedetto XVI per il cinquantesimo anniversario dell'apertura del concilio Vaticano II alcune proposte per la celebrazione di questo anno contribuiranno efficacemente a maturare una risposta all'interrogativo di fondo di questo anno della parola ma voi chi dite che io sia? Tra l'altro viene caldeggiata una rivisitazione dei documenti conciliari i nostri incontri mensili di clero ci forniranno quest'anno l'opportunità a partire proprio dall'11 di ottobre l'opportunità di una ripresentazione delle costituzioni conciliari dei verbum lumen gentium sacrosantum concilium ete gaudium ete spes così viene pure suggerita una conoscenza più ampia e più diffusa del catechismo della Chiesa Cattolica dove sono contenute tutte le verità della fede applicate alla vita del popolo di Dio un'altra confluenza ricorre quest'anno il decimo anniversario del Rosarium Virginis Marie il Vescovo siatene pure certi ci porterà sicuramente a valorizzare questa preghiera così radicata nel nostro popolo per facilitare il cammino del quadriennio della parola visitando le chiese della diocesi con il Vescovo ne abbiamo trovate poche di quelle prive dell'altare dedicato alla Madonna del Rosario Monsignor Sorrentino commentava ogni volta i Vescovi in passato hanno investito molto su questa devozione per mantenere la fede del popolo Vescovo nella sua lettera che ci consegnerà domenica approfondirà molto questo tema l'anno pastorale che si apre ora si concluderà nell'autunno prossimo quando toccherà all'Umbria presentare presenziare le solennità di San Francesco è un'opportunità anche questa se il Signore ci concedesse di esplorare la figura e la spiritualità di questo Santo la sua venerazione per la parola di Dio il suo amore appassionato per Gesù per il suo mistero per il mistero della sua incarnazione il mistero della sua divina umanità da cui era totalmente pervaso se ci desse questa grazia del Signore il quadriennio della parola l'avremmo terminato già da un pezzo credo che sarebbe interessante cogliere anche questa opportunità ricordo per dire come San Francesco il nostro concittadino il nostro diocesano il figlio di questa terra quale quale concetto aveva della parola di Dio il Papa Gregorio IX faticò moltissimo e non ci riuscì a fargli cambiare la regola perché ogni volta che San Francesco provava a rifondere la regola rimetteva giù tutti i pezzi del Vangelo e basta e i frati invece spingevano sul Papa perché facesse San Francesco una regola di quelle normali insomma credo che sarebbe interessante cogliere anche questa opportunità che il Signore ci offre per realizzare un anno veramente fecondo di impegno pastorale termino credo che a nessuno sia sfuggita questa mattina la forza dell'omilia di San Giovanni Crisostomo è impressionante scrive il Santo non senti il Signore che dice dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo a loro e non sarà presente là dove si trova un popolo così numeroso unito nel vincolo della carità mi appoggio forse sulle mie forze no perché ho il suo impegno ho con me la sua parola questa è il mio bastone la mia sicurezza il mio porto tranquillo anche se tutto il mondo è sconvolto ho tra le mani la sua scrittura leggo la sua parola essa è la mia sicurezza e la mia difesa e gli dice io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo e questo sarà anche diciamo lo stimolo per cominciare a guardare da vicino quell'impegno che il Vescovo ha annunciato del del sinodo camminare insieme per la nostra diocesi terminerà la visita pastorale si farà questo anno pastorale il terzo anno della parola nel frattempo si chiede che si cominci a pensare e a pregare perché la diocesi si dia veramente un cammino unitario la preghiera universale delle quattro tempora di autunno che reciteremo fra qualche giorno ci incoraggia essa dice come gli antichi patriarchi riprendiamo il cammino sotto lo sguardo del padre incontro al Cristo che viene grazie Grazie.